Cominciamo adesso con la ventisettesima unità. Dovrei andare all'ufficio visti. Dovrei andare all'ufficio visti. Dovrei andare all'ufficio visti. Vorrei un visto per studio. Dovrei andare all'ufficio visti. Servono fotografie. Quando è aperto l'ufficio visti dell'ambasciata italiana? Il lunedì, il martedì e il venerdì dalle nove a mezzogiorno. 通常来说, 在前面加上了定冠词, 表示的是每个周一,每个周二, 还有每个周五. Quando sarà pronto il visto? Può tornare fra dieci giorni per ritirarlo. Vorrei chiedere il permesso di soggiorno. Vorrei chiedere il permesso di soggiorno. Per quanto tempo vuole trattenersi in Italia? Per quanto tempo vuole trattenersi in Italia? Quindi,我们来看下东子, trattenersi, 它是直成诗, 但它是正常语, 它是正常语, 我 trattengo, 你 trattengo, 你 trattengo, 你 trattengo, 你 trattengo, Lei deve andare alla questura per rinnovare il permesso di soggiorno. Lei deve andare alla questura per rinnovare il permesso di soggiorno. Quindi, questura 就是经济语, 它因为一个城市 只有一个 questura, 因此要大事. 现在我们学习一下对话. Dialogo. Vorrei un visto per studio. Dovresti andare all'ufficio Visti dell'Ambasciata Italiana. Quando hai aperto l'ufficio Visti? Il lunedì, il martedì e il venerdì, dalle nove a mezzogiorno. Quali documenti ci vogliono per un visto per studio? Almeno un certificato della scuola italiana, un invito di una persona o una famiglia che vuole offrirti il soggiorno. Serve una fotografia? Sì, devi portare tre foto destra. Quando sarà pronto il visto? Puoi venire fra dieci giorni per ritirarlo. Grazie. Buona fortuna. Buongiorno, signore. Vorrei chiedere il permesso di soggiorno. Ha portato il suo passaporto? Sì, eccolo. Per quanto tempo vuole trattenersi in Italia? Almeno un anno. Per quale motivo? Per studio. Ho ottenuto la borsa di studio del governo italiano. Ci vogliono due foto. È una marca da bolo da 30.000 lire e può trovarla dal tabaccaio. We'll see. Marca da bolo 指的是櫻花税. 通常櫻花税 在一些烟草店 或者是杂货店里 都可以买到. 那麼呢, 通常外国人到意大利以后 必须在一周之内 持有关证件、照片 和櫻花税 到警察局办理 拘留证. Grazie. 现在我们做一下 练习 esercizi vorrei un visto per studio 现在我们来 代替一下 studio affari affari lavoro lavoro turismo Quando è aperto l'ufficio visti dell'ambasciata italiana? Quando è aperto l'ufficio visti dell'ambasciata italiana? 现在我们来 代替一下 l'ufficio visti 代替一下 主意 l'ufficio commerciale l'ufficio commerciale l'ufficio culturale l'ufficio culturale Quando sarà pronto il visto? Quando sarà pronto il visto? 现在我们来 代替一下 主意 il permesso di soggiorno il permesso di soggiorno la patente di guida la patente di guida la copia del contratto la copia del contratto vocabolario l'ufficio visti l'ufficio visti ambasciata ambasciata mezzogiorno mezzogiorno ritornare ritirare ritirare trattenersi trattenersi questura questura rinnovare rinnovare certificato certificato invito tessera motivo borsa di studio governo marca da bollo tabaccaio tabaccaio e ci fermiamo qui con la ventisettesima unità di 27 che l'ufficio m'è in questo caso